Al 34esimo assist di Capitano Marinacci per Gagliardini, tenuto in gioco da Valerica sbaglia l'offside, ma la conclusione si spegne sul fondo. Passano 60 secondi e il deruta ottiene il vantaggio. Gagliardini, ben lanciato, si trova a 2x2 con Pappalardo, che lo atterra. Bianchi di Terni non ha dubbi, assegna il penalty e ammonisce l'estremo difensore locale. Rivediamo a Rallenty per abbandonare ogni dubbio. Batte lo stesso Gagliardini, palla da una parte e portiere dall'altra. Le squadre vanno così negli spogliatori.